Beh, magari bollente me lo faccia, che dici, è meglio... Ma non esagerare, però... No, piano, piano. Ehi, stai attento ai picciotti là fuori. Sì, sì, quelli fanno paura, certamente. Starò attento. Con questo samoscio. E pensare che con la magia invece tutto funziona? Boh, misteri del cacchio umano sono. Qua consiglia di cospargere il letto con salvia, basilico e mentuccia. Ehi, Maria, che esagerazione. Dovete fare un figlio, no, la carne inumido. Gli indiani invece raccomandano di cibarsi con i testicoli di montone, cotti nel latte zuccherato. Credi che li gradirebbe? Che schifo! No, 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 no. Carlo ha bisogno solo di essere un po' aiutato. L'ho sentito io stanotte. Che hai sentito? Beh, niente, solo che non riuscendo a esprimere...